vai popi 88 migliorarie 88 ciao a tutti ragazzi bentornati in questa venticinquesima in live ed eccoci qui finalmente a parlare di un tema che dire molto molto interessante comunque complimenti davvero tra il giapponese la mia gatta è stata appena picchia io questa volta non sono una parte ignorante sono loro ok eccoci no ammazzata questa bestiaggia no 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 no